Puoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparente. Vediamo il camion com'è. 70.000 km originali, 7 posti, 3 davanti, 4 posti dietro. Ideale per il trasporto squadre, con un bel cassone posteriore. Guardate un po' le condizioni, la macchina è veramente pari al nuovo. Vediamo qui. Perfettamente. Tutto molto bello. 2008. Il furgone è davvero molto bello, molto molto bello. Questa è la sedia. Guardate qua, è pari al nuovo. 72.000 km originali, verificabili. Guardate un po' tutto, la leva, i pedali, sono tutti nuovi. Gommata nuovo. Guardate qua dietro. Sentiamo il motore. Vi faccio vedere un attimo il cassone. Guardiamo le gomme posteriori, muove. Vi faccio vedere il cassone. Vabbè, adesso qua è centinato. Apriamo qua da una parte e guardiamo il cassone. Un bellissimo cassone, anche lungo, nell'annuncio trovate la descrizione, trovate la lunghezza, il cassone. Insomma, la macchina è bellissima. Vado a farmi un giro così la sentite in moto. In questo video voglio parlare poco, mentre lo provo, perché la macchina parla a lei. Lasciamo parlare a lei, è nuova. Allora, l'arra e guardiamo l'attenzione. Noi, noi, noi. La macchina ha 6 marce, più retro, guardate 6 marce, adesso sono in quinto, si sente che gira proprio bene, la macchina è un Isuzu, veramente una macchina azzeccata, un po' è stabile, è tutta nuova, gli interni sono belli, fa proprio piacere guidarla. Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come al solito, macchina disponibile per visione e prova. Interessati? Venite a provarla in Alliam. La macchina è pronta al lavoro. Ciao. Vuoi vendere il tuo camion subito? Noi di Alliam acquistiamo autocarri industriali usati di tutti i tipi, di tutte le marche e di tutte le età. Pagamento immediato e trattative trasparenti.